Salve amici del segreto, in questo video andremo a vedere alcuni concetti interessanti del grande Napoleon Hill che ci insegna come trovare una via d'uscita dalle difficoltà in cui ci troviamo. Si tratta di concetti che aiutano coloro che vogliono sviluppare le competenze necessarie per raggiungere i propri obiettivi e lui ci spiega appunto come la fiducia nelle nostre forze può aiutarci a vivere una vita straordinaria. Cominciamo subito ad analizzare questi concetti. Le cause della paura. Tutti noi abbiamo delle cose che temiamo. Alcuni di noi hanno paure razionali, altri possono avere paure completamente irrazionali. Sono sei le paure significative che ci impediscono di vivere una vita bella. Abbiamo paura della povertà, delle critiche, di ammaliarci, di perdere i nostri cari, di invecchiare e di morire. Sebbene la paura sia un istinto naturale, spesso è la causa che ci impedisce di realizzare i nostri sogni e obiettivi. Agiamo sulle nostre paure invece di razionalizzarle perché altrimenti finiremo paralizzati. La paura ci fa procrastinare e quando procrastiniamo non riusciamo più a crescere come persone. Quali sono le cause che non vi consentono di realizzare i vostri obiettivi? Forse il fatto di non avere abbastanza tempo o abbastanza denaro. Forse c'è qualcuno che vi ostacola. La paura non è una scusa. Dobbiamo affrontare questa paura e avere il coraggio di fallire e riprovare. Se consideriamo la paura come un ostacolo messo deliberatamente davanti a noi dal diavolo, possiamo trasformarla in qualcosa da superare e su cui trionfare. La prima causa del fallimento. Napoleon Hill dice che la vita senza scopo o obiettivo è la prima causa di fallimento. Quando ci troviamo in un momento di crisi o cadiamo in un particolare tipo di depressione, spesso è a causa della mancanza di uno scopo e della sensazione di isolamento e solitudine. Non dovremmo mai essere governati dai nostri errori perché, come dice Hill, ogni avversità, ogni fallimento, ogni dolore porta con sé il seme di un beneficio uguale o maggiore. Napoleon Hill ha iniziato con un'analisi del fallimento e riteneva che la chiave per comprenderlo fosse il dialogo con le persone di successo. Lui spostò l'attenzione e iniziò ad analizzare le persone che non avevano successo. L'idea era di imparare il successo attraverso il fallimento. Tutti noi affrontiamo delle difficoltà ma Hill spiega che i fallimenti sono accompagnati da opportunità. Sta a noi rivalutare i nostri obiettivi e le nostre strategie quando falliamo in modo da poter migliorare. L'essere resilienti si basa sul potere del pensiero positivo e quindi dobbiamo sforzarci continuamente di andare avanti. Quando ci troviamo in una fase di stallo sta a noi cambiare direzione e spostare la nostra attenzione. Nella vita di Hill vediamo molti momenti in cui lui è stato afflitto dalle paranoie e dubbi su se stesso. Stava perdendo la concentrazione, la motivazione. Lui dice che stava diventando un vagabondo. I vagabondi vivono la vita influenzandosi pesantemente dalle forze esterne. Secondo lui vivono come se avessero il pilota automatico. Non prendono decisioni, non corrono rischi, perdono la capacità di pensare e agire in modo indipendente. Il sostiene che siamo incoraggiati ad essere dei vagabondi fin dalla nascita ed è proprio il diavolo ad incoraggiarci. Fin dall'inizio della vita ci vengono presentate cose che ci fanno desiderare di vivere la vita in modo robotico e perdiamo la capacità di pensare con la nostra testa. Hill svolge molte analisi a riguardo. Lui critica il sistema scolastico e afferma che esso alimenta un comportamento omogeneo. L'istruzione basata sui risultati si concentra sull'apprendimento a memoria e sulla recitazione di informazioni. Secondo Hill dobbiamo invece concentrarci sull'incoraggiamento del pensiero critico e indipendente. I genitori e gli insegnanti devono coltivare l'unicità e la creatività piuttosto che i test standardizzati e l'apprendimento a memoria. Lui critica anche la chiesa per aver favorito lo stesso tipo di omogeneità e suggerisce di sviluppare la nostra voce interiore e di imparare a pensare in modo indipendente. Lui dice non siamo corrotti solo dalle istituzioni e dall'indottrinamento siamo corrotti anche attraverso sostanze come l'alcol, le sigarette, le droghe e i cibi malsani. Come ingannare il diavolo? Come già sappiamo noi siamo molto suscettibili di formare sia buone che cattive abitudini. Il comportamento abituale ci fa agire in uno stato ipnotico in cui viviamo la vita come se avessimo il pilota automatico. Per liberarci dalle brutte abitudini dobbiamo essere più attenti e consapevoli delle nostre azioni. Dobbiamo chiederci perché facciamo le cose che facciamo e ascoltare le nostre voci interiori. La buona notizia è che la legge del ritmo ipnotico può funzionare a nostro favore se incoraggiamo le buone abitudini. Possiamo sostituire le cattive abitudini con quelle positive. Per riuscirci dobbiamo coltivare una mentalità impegnata e presente. Dobbiamo anche sviluppare piani e obiettivi precisi. È importante essere il protagonista della propria vita e agire in modo da valorizzare tutti i propri talenti e le proprie capacità. Ascoltare l'altro se spesso sentiamo delle voci dentro di noi che ci dicono cosa dovremmo fare. Si tratta del nostro io intuitivo che di solito si presenta quando siamo in crisi. Questa voce intuitiva interviene e cerca di convincerci a cambiare direzione. Essa è facilmente distinguibile dal rumore e dalle chiacchiere della nostra testa. Se è intuitiva lo sapremo. Dobbiamo ascoltare e conoscere tutte le voci della nostra testa e così facendo impareremo a padroneggiare il nostro io. La cosa importante per quanto riguarda la voce intuitiva è identificare quando dire sì e quando dire no. Si racconta che l'intuizione di Hill lo abbia spinto a terminare il manoscritto del suo primo libro. Lui ascoltò la sua voce intuitiva e gli disse che il primo passo per uscire dal suo ritmo ipnotico era a finire questo manoscritto. Una volta terminato lui fu in grado di passare alla fase successiva. Fu guidato ad incontrare un editore Gli è stato dato un anticipo e un contratto di pubblicazione La reazione è sempre quella di andare avanti e di avere fiducia nella nostra intelligenza infinita. Se ascoltiamo noi stessi impareremo a prendere rischi calcolati e a creare un senso di scopo. Il successo non riguarda solo se stessi, dobbiamo fare qualcosa anche per gli altri. È essenziale servire la nostra comunità e aiutare chi ha bisogno. Hill spiega che la vera realizzazione deriva dall'aiutare gli altri perché la felicità non è una ricerca solitaria. Gli esseri umani sono esseri sociali e quindi trovano un significato nei legami. Ci sono sempre persone che stanno peggio di noi. Dobbiamo riconoscerlo spostando l'attenzione dai nostri problemi a quelli degli altri. Ovviamente questo spostamento di attenzione ci permette di avere un maggior senso di prospettiva e di scopo. Dovremmo anche considerare la media del 5. La media dei 5 è una teoria introdotta da Jim Rohn, secondo la quale noi siamo il risultato delle 5 persone con cui passiamo più tempo. L'idea è quella che dice che le persone con cui passiamo più tempo hanno un impatto più significativo su di noi. Quindi dobbiamo scegliere le persone che frequentiamo con molta attenzione. Se frequentiamo persone negative diventeremo anche noi così. E sebbene questa teoria sia controversa, Hill sostiene che la nostra prima lealtà è verso noi stessi. Pertanto dobbiamo scegliere con cura le nostre cerchie sociali e passare del tempo con persone positive che tirano fuori il meglio di noi. Dobbiamo smettere di frequentare le persone solo perché sentiamo un senso di dovere o di obbligo. Dobbiamo invece promuovere relazioni con persone che ci incoraggino a raggiungere il nostro pieno potenziale. Hill propone un esercizio in cui suggerisce di visualizzare i nostri eroi e di giocare di ruolo con loro. Dobbiamo chiederci cosa mi consiglierebbe di fare il mio eroe. Che consiglio mi darebbe? Come affronterebbe lui questa situazione? Così facendo emuleremo le buone abitudini e le qualità che ammiriamo nelle altre persone. Benjamin Franklin diceva Il tempo può essere il nostro più grande amico o il nostro più grande nemico. Possiamo scegliere se usare il tempo con saggezza e crescere oppure se sprecarlo e procrastinare. Quello che facciamo con il tempo che ci viene dato è cruciale. Una delle lezioni fondamentali del libro è che va bene essere egoisti. Non dobbiamo accontentare tutti e siamo più efficaci se mettiamo al primo posto i nostri bisogni. Mantenendo il nostro scopo e i nostri valori abbiamo maggiori possibilità di essere nella posizione di servire e aiutare gli altri. Sfruttando il potere del pensiero positivo possiamo pianificare in anticipo, fissare obiettivi, sviluppare un profondo senso dello scopo. Possiamo farlo ascoltando la nostra intuizione, affidandoci alla nostra intelligenza infinita ed evitando la tentazione di agire impulsivamente. Questi erano i consigli di Napoleon Hill per capire come uscire dalle difficoltà e vivere una vita straordinaria. Spero che il video vi sia piaciuto, vi ringrazio della vostra attenzione e ci risentiamo nei prossimi video. Ciao!